Ciao, sono Martina. Se ti sei dedicato solo ai regali per i tuoi amici e non sai cosa indossare, questa è la mia proposta per un best match da indossare durante un party super cool. Un top glitterato rosso da abbinare ad una gonna in pelle nera che rende tutto il look più strong. Per restare in tema glitter ho anche abbinato degli stivaletti con tacco e punta cromati. E per finire, per completare il look, ho abbinato una clutch super luminosa con tracolla.